ciao ragazzi in questo video vi spiego come semplicemente invertire il senso di rotazione di un motore passo passo di quelli che usiamo nelle nostre stampanti allora innanzitutto diciamo che le fasi del motore con questi colori di fili sono rosse blu è una fase verde nero è l'altra fase ora per invertire senso di rotazione senza cambiare niente a livello di software basta invertire una fase quindi ad esempio possiamo invertire il rosso con il blu oppure possiamo invertire il verde con il nero qua se guardate con la modifica che ho fatto alla t5 avevo bisogno di invertire la rotazione del motore quindi ho invertito i due cavi rosso e blu per invertire i cavi basta che gli sfiliate per sfilarli con una lama di coltello alzate la linguetta che c'è qua e poi e poi tirate il cavo qua ci sono delle linguette ci mettete la lama sotto e poi tirate i cavi e poi li reinserite bene per questo video è tutto buona inversione motori ciao alla prossima ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.